Lo Stato di emergenza certifica che occorrono strumenti eccezionali in Italia e in Europa per affrontare il flusso immigratorio. Da una parte tutela dei nostri confini, sicurezza delle nostre coste, dall'altra però dobbiamo approvare un decreto flussi che dica che in Italia si può venire a lavorare e ne abbiamo tanto bisogno di mano d'opera. L'Italia chiederà una maggiore flessibilità all'Europa sul PNRR, riusciremo a spendere questi soldi? Continuiamo a fare un appello, il PNRR è l'occasione straordinaria per rilanciare il paese, l'hanno voluto tre governi, quello Conte, quello Draghi e adesso il governo Meloni, proprio per questo dovremmo essere tutti uniti, smetterla con polemiche inutili e strumentali e bene ha fatto il Ministro Fitto a stabilire qual è la situazione reale. Insieme all'Europa raggiungeremo gli obiettivi previsti.